Alla fine Matteo Reteghi è andato in gol, all'esordio con la maglia della nazionale italiana contro l'Inghilterra in una partita purtroppo persa per 1-2, al primo pallone giocabile pulito in attacco, controllo e destro secco a battere Pickford. Gol quindi all'esordio per il giovane attaccante italo-argentino che anche l'Inter pare stia seguendo sul mercato così come Roma, Milan e non solo. All'interno di questo contenuto un flash iniziale sulla prestazione di ieri sera di Reteghi e poi tante altre notizie. A partire da una risposta piuttosto piccata dell'agenzia che segue, franche sì, riguardante le notizie di mercato intorno al Limoriano, un retroscena emerso proprio in queste ore su Milan Scrinier e il suo problema alla schiena. Una notizia che pare non aver fatto molto contenta la dirigenza dell'Inter. Infine la decisione che sembra essere ormai prossima all'ufficialità rispetto al sostituto di Roberto Samadine. Ne abbiamo parlato a lungo in queste settimane. L'Inter pare aver finalmente deciso chi sarà la figura che andrà a sostituire quello che a tutti gli effetti è stato uno dei dirigenti più vincenti degli ultimi anni a livello di settore giovanile. E poi in chiusura voglio darvi proprio un flash con una notizia bonus che però non vi spoilerò anche se probabilmente l'avrete già letta. Partiamo subito quindi. Come sempre vi invito a clic sul tasto mi piace e clic sul tasto iscriviti. Lanciamoci allora sulla notizia di Reteghi. Vi dicevo non voglio dedicarci troppo tempo perché poi non è stata a dire la verità una partita super positiva né da parte di Reteghi né da parte dell'Italia di Mancini che ha cercato proprio dopo il gol di Reteghi e in particolare negli ultimi 20 minuti un assalto anche abbastanza ben tenuto contro l'Inghilterra però di fatto la partita è stata persa. Uno a due primo tempo completamente negativo dell'Italia che ha chiuso appunto in svantaggio di due gol. Quello che ho visto in Reteghi che ho cercato di osservare con grande attenzione è innanzitutto il profilo di un giocatore che ovviamente ha bisogno di tempo per adattarsi perché è arrivato a giocare con la nazionale essendo convocato per la prima volta si allenava con il gruppo da pochi giorni non sa nemmeno la lingua visto che gioca in Argentina gioca in un altro campionato in un altro contesto completamente e sarebbe stato piuttosto pretenzioso aspettarsi chissà quale prestazione però come dicevo in apertura al primo pallone pulito giocato molto bene da Pellegrini ha stoppato in area di rigore ha guardato il portiere e ha incrociato battendolo con freddezza. Un buon segnale tutto sommato. Mi è sembrato un centravanti abbastanza associativo più di una volta si è proposto per fare delle sponde per i compagni è chiaro che a livello di giudizio complessivo ed in particolare rispetto alla capacità di fare gol oltre ai numeri che comunque ha già messo insieme in Argentina saranno necessarie altre partite per poterlo valutare. Altra notizia flash dal ritiro della nazionale Barella ha lasciato appunto il ritiro e tornerà a Milano le sue condizioni non sono perfette in più ieri ha ricevuto un paio di falli uno in particolare di Maguire che evidentemente hanno peggiorato la situazione quindi non parteciperò alla partita contro Malta e speriamo che possa essere disponibile fin da subito per l'Inter Passo alla notizia sull'agenzia di che si fa un po' sorridere questa perché non è la prima volta in realtà che l'agenzia che segue appunto il centrocampista ivoriano l'Ambition Group Sport Management, questo è il suo nome, non è la prima volta dicevo che risponde in maniera piuttosto piccata alle notizie di mercato in questo caso la notizia è del Corriere dello Sport ma poi ho visto che hanno fatto altri post anche contro altre fonti vi condivido lo schermo perché il comunicato è duro ma fa anche abbastanza sorridere io ho evidenziato la parte secondo me più simpatica perché l'agenzia di che si dice certe notizie fake e ridicola cominciano a dare fastidio vogliamo essere molto chiari su questo, la possibilità che che si possa lasciare il Barcellona nel prossimo calciomercato è come sperare che un serpente possa improvvisamente avere le gambe la prossima estate è il mondo alla rovescia questo per essere molto chiari è appunto il giudizio che l'agenzia di che si dà rispetto alle notizie che lo vorrebbero lontano dal Barcellona che si che tra l'altro proprio recentemente ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Barça di vincere il classico contro il Real Madrid questo secondo me sposta il giusto rispetto alla possibilità che lui resti lì oppure vada via le parole della sua agenzia è difficile obiettivamente capire adesso se siano risposte di circostanza oppure no è anche vero va detto che non è la prima volta che si prendono diciamo la briga di rispondere a notizie di questo tipo vedremo cosa accadrà sappiamo che comunque l'Inter apprezza il giocatore non è diciamo una novità che lo vorrebbe volentieri nella propria batteria di centrocampisti vedremo se questo potrà concretizzarsi in estate oppure no vengo alla notizia su Skriniar e qui mi faccio più serio perché è una situazione molto particolare quella che riguarda Skriniar in queste ore l'abbiamo anche letto in diretta il medico della nazionale slovacca ha tracciato un quadro della situazione fisica di Skriniar piuttosto preoccupante ha detto che lo aveva sentito già nelle scorse settimane che le terapie che ha svolto in questo periodo non sono servite e che addirittura lo ha trovato peggiorato rispetto a questo problema alla schiena che secondo le ultime novità gli provoca dolore anche stando a riposo e quindi non è ovviamente in condizione nemmeno di giocare il giocatore slovacco Skriniar aveva raggiunto il ritiro della nazionale ma ovviamente è stato rimandato subito indietro proprio per queste sue condizioni la gazzetta dello sport stamattina riporta una notizia secondo cui prima di rientrare a Milano Skriniar avrebbe fatto tappa a Bordeaux per farsi visitare da un medico alla presenza anche di un componente dello staff medico del Paris Saint Germain staff medico del PSG che ovviamente vuole monitorare la sua situazione nel caso in cui sia un infortunio non lieve è tutto nel loro interesse capire eventuali tempi di recupero e la situazione generale questo secondo la gazzetta ovviamente non ha fatto molto contenta la dirigenza dell'Inter che non pare essere diciamo intenzionata a alzare chissà quali polveroni mediatici visto che la situazione è già piuttosto delicata così com'è però di certo questa cosa non ha fatto contenta l'Inter Skriniar così come tutti gli altri componenti della rosa sarà fondamentale da qui in poi perché le partite sono tante le rotazioni sono necessarie l'Inter peraltro in questo preciso momento ha bastoni infortunato una Cerby che sta giocando anche in nazionale quindi è comunque anche lui tecnicamente a rischio magari di qualche problemino ed è importante riuscire a recuperare tutti però al momento è difficile sbilanciarsi rispetto a quando potrà tornare a disposizione Skriniar chiudo con il sostituto di Roberto Samaden che ha ufficializzato ha fatto sapere nelle scorse settimane che lascerà a giugno il ruolo di responsabile del settore giovanile interista punta ad un ruolo di maggiore prestigio in club che siano o di serie A o di serie B adesso vedremo l'Inter pare aver scelto il sostituto che sarà Andrea Catellani classe 1988 è interista come fede diciamo ed è in uscita dalla SPAL anche lui con il contratto in scadenza nelle ultime settimane si è parlato di un casting tra virgolette che l'Inter stava valutando con anche altri candidati come Costanzi dell'Atalanta Palmieri del Sassuolo e Castellazzi del PSG ma alla fine la scelta è caduta su Catellani Catellani che ha cominciato è stato un calciatore innanzitutto poi ha cominciato dall'Entella sempre a livello di scouting e consulenza riguardo i giovani nell'area sportiva è passato poi al Chievo Verona nel 2018 nel 2019 non so quanti di voi l'abbiano seguito ma curiosità ha commentato come voce tecnica alcune partite dell'Italia Under 17 al Mondiale quindi magari qualcuno può averne quantomeno sentita la voce pur senza sapere che fosse lui nel luglio del 2021 è passato poi alla SPAL come vi dicevo e durante la prima stagione alla guida del settore giovanile o comunque da tesserato della SPAL la squadra Under 18 ha vinto uno storico scudetto di categoria riuscendo a battere in finale il Bologna non so francamente dirvi se sia bravo oppure no non so dirvi se sia meglio degli altri possibili candidati che vi ho citato prima da totale ignorante in materia come penso la maggior parte di tutti noi è chiaro che pensare alla SPAL rispetto ad Atalanta Sassuolo e PSG fa un certo effetto così a su due piedi avremmo detto gli altri fanno parte di squadra che anche a livello di lavoro con i giovani hanno sempre fatto meglio però non mi la sento di giudicare questa scelta non conoscendo il suo profilo semplicemente se dovesse essere poi lui il designato vi auguro buon lavoro e speriamo che possa cambiare qualcosa nella gestione del settore giovanile dell'Inter che tante volte abbiamo di cui tante volte abbiamo parlato anche qui su Passione Inter chiudo con una notizia bonus è di ieri sera probabilmente l'avrete già letta il Bayern Monaco sta per esonerare forse addirittura mentre sto registrando e fin quando pubblicherò il contenuto arriverà anche il comunicato ufficiale sta per esonerare Julian Nagelsmann il suo allenatore che aveva un contratto in scadenza nel 2026 era stato acquistato dall'Ipsia la scorsa stagione pagandolo 25 milioni di euro come se fosse un giocatore di buon livello e al suo posto è pronto a firmare Thomas Tuchel al momento nel momento in cui sto registrando non ci sono diciamo conferme ufficiali rispetto al motivo qualcuno parla di risultati sportivi che non soddisfano al 100% se la stagione è lì da vedere qualcuno ipotizza magari screzzi interni con la dirigenza o con col management del Bayern in ogni caso la notizia è clamorosa perché appunto peraltro fra pochi giorni si gioca il classico in Germania il Bayern avrà la partita contro il Manchester City nei quarti di Champions notizia che mi ha piuttosto scombussolato non se lo aspettava nessuno mi sembra chiaro qualcuno ha già cominciato con un po' di battute di ironia ovviamente dicendo esoneriamo in zaghi prendiamo Nagelsmann non credo che sia una cosa fattibile però di certo il profilo di Nagelsmann adesso potrebbe far gola a tanti club nel caso in cui fosse libero ovviamente nel caso in cui risolvesse il contratto con il Bayern perché altrimenti lui un contratto per altri tre anni ce l'ha chiudo qui ragazzi queste erano le principali news di giornata vi ricordo ancora una volta il mi piace e l'iscrizione al canale fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle varie notizie se avete visto in campo Retteghi cosa ne pensate di Catellani se lo conoscete e anche di quest'ultima su Nagelsmann sono molto curioso infine lo lascio in descrizione per chi ci segue in podcast mentre per chi mi segue su youtube qui alla mia destra trova l'identikit di Matteo Retteghi di cui abbiamo parlato in queste ore di Matteo Retteghi di Matteo Retteghi Grazie a tutti.